Lunedì 11 novembre 2019. Mancano 50 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda San Martino di Tur. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Martino. Il nome ha origine latina e significa colmo, abbondante. Il numero portafortuna è l'otto, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. L'11 novembre del 1961 a Kindu, nell'ex Congo belga, vengono torcidati 13 aviatori italiani facenti parte del contingente dell'ONU inviato a ristabilire l'ordine nel paese. A ricordo dell'eccidio di Kindu, alle cui vittime è stata riconosciuta la medaglia d'oro o al valore militare, sono stati eretti monumenti commemorativi negli aeroporti di Fiumicino e di Pisa. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attore americano Leonardo Di Caprio, nato a Los Angeles l'11 novembre 1974. Considerato uno dei migliori attori contemporanei, Di Caprio è stato nominato sei volte ai premi Oscar vincendolo nel 2016 come miglior attore protagonista per Revenant Redivivo. La rivista Time l'ha inserito al primo posto tra i cento most influential people del pianeta, nella categoria Icona. Le frasi del cinema. Dicevo che mi stavo innamorando da morire, ma mi sbagliavo, perché per la prima volta in vita mia mi stavo innamorando da volare. Dal film Arizona Dream. Proverbio del giorno. Colpisci te stesso prima per capire il dolore che daresti. Proverbio cinese.